a 1.700 metri di altezza si esce dal bosco salita a mezza costa in tratto erboso ecco il viglio là che ci aspetta viglio e gendarme del viglio bisogna arrampicare un pochino per superare il gendarme in cima al gendarme miglio ormai è abbastanza vicino eccoci qua si segue la cresta di discesa arrivati a una sella andiamo verso sinistra l'ennesima madonna bisogna andare a sinistra per tornare a meta il sentiero entra nel bosco di nuovo c'è una radura e si vede la strada sterrata che arriva al rifugio Cerasoli e che si può evitare con un sentiero che va giù dritto lasciamo la strada un centinaio di metri dopo l'inizio il siedzecchio siedza ma rapi